Il primo mese di Covid abbiamo tenuto chiuso per una scelta personale, poi dopo noi essendo un servizio esenziale potevamo comunque tenere aperto, ma non circolava nessuno, non c'era nessuno in giro e quindi abbiamo fatto pochissime ore durante il periodo e poi abbiamo cominciato di nuovo a lavorare da maggio, dai primi di maggio quando c'è stata la delibera di poter iniziare a lavorare e da lì è ricominciato un po' il mercato. Non ho mai venduto come quest'anno tanti scooter a pochi soldi, la vendita dello scooter nuovo è calato drasticamente, si vende scooter da pochi euro, gente riparano quello che hanno, insomma sono tutti molto contratti nelle loro scelte. Mi ritengo tra quelli un po' fortunati, la gente si deve sempre comunque spostare e bene o male o lo scooter vecchio o lo scooter nuovo comunque hanno bisogno di un mezzo, però mi rendo conto che comunque la spesa pro capite della persona è scesa.